L'uscita non l'abbiamo trovata, però abbiamo visto questa grande macchia di là. Questa porcheria qui la portata, guarda che sta galleggiando ancora. Questa cosa abbiamo, questa stima qua, che è... Questa porcheria è arrivata qui. Non è possibile, senz'altro è quella roba di foglio, perché quando stavo pulendo lì con il massimo, mi ha detto, guarda, guarda lì, guarda, tutta roba che esce, scaricano. La macchina è sempre ferma lì, dove c'è il piazzale di cemento lì, dove fanno il bagno in freddo. E quindi, lì è tutta la macchina, che poi piano pieno l'ha portata, che poi è uscita un'altra macchina che l'ha portata un po' a fuori. Infatti noi abbiamo, non potevamo incontrare l'acqua perché giustamente, chi lo sa, se prendiamo qualche... E' un pezzo delicoso, bup. Un pezzo. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Abbiamo chiamato anche la capitaneria di Porto forestale ma ancora non si sono visti, molto prima di voi. No, non si può dire da dove. Da dove non lo so io ma io l'ho vista di là, molto vicino alla scogliera, capito? Cos'è quella? Sarà una scala per salire quella lì? Non so. Mi dice che da quella posizione si vede ancora mezza? Sì, da mezza. Regina, questa è la scala che faccio la sua proposta, la mia porta al mio. Sta uscendo l'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.